Le innovazioni nel mondo della vita di campagna e nell'attività agricola, ma anche esperienza, contatto con la natura in una logica di wellness, green e outdoor. Insomma, l'innovazione e la sostenibilità per una nuova generazione di agriturismo al centro della prossima edizione di Agrientour. Viviamo tempi nuovi anche dopo la pandemia, i valori anche di tutti si sono un po' modificati. C'è una ricerca per un ritorno a un qualcosa di più naturale anche nel tempo che uno può passare per le vacanze, c'è la riscoperta dei percorsi gastronomici, tutto quello che è natura oggi interessa, vivere all'aria aperta. A maggior ragione Agrientour si rinnova e lo fa cambiando completamente format anche al suo interno. Vedremo un momento veramente molto professionalizzante per gli agriturismi che vorranno confrontarsi con buyers provenienti un po' da tutto il mondo. E poi ci sarà nei due giorni successivi un momento aperto al pubblico. Abbineremo come ormai di consueto anche l'evento Passione in Fiera, quindi con tutti gli animali da cortile e un momento anche per avvicinare anche le famiglie alla realtà sia dell'agriturismo ma anche a quella di una natura intesa a 360 gradi. La ventunesima edizione della manifestazione dedicata alle strutture ricettive di campagna e al turismo rurale tornerà all'Arezzo Fiere e Congressi dal 10 al 12 novembre prossimi. Questo settore, quello dell'agriturismo, è uno dei nostri fiori all'occhiello che ovviamente riesce meglio di ogni altra a raccontare i nostri territori che hanno bisogno di essere presentati nella loro totalità. Quindi non solo sotto l'aspetto dell'accoglienza ma anche per le produzioni dell'agroalimentare, quelle artigianali, quelle culturali che tutti insieme riescono a formare l'offerta formativa sempre di più interessante anche per i buyer e quindi per le grandi dinamiche internazionali.